Musica Ben ritrovati a tutti voi cari amici e care amiche di Angoli Come sempre grazie per voler iniziare la vostra serata qui insieme a me Una serata ricca come sempre grazie ai nostri ospiti Partiamo subito dal primo Torna a trovarmi e sono felicissima di averlo qui con me Lorenzo Morandotti Grazie, buonasera a tutti, buonasera a te Ciao Lorenzo, allora scrittore, giornalista e questa sera sei qui per parlarci dei tuoi libri Da dove vuoi iniziare? Dall'ultimissimo che è appena uscito che è questo I Demoni della Speranza Che è questo piccolo libro che ho in mano Ha questa copertina molto sobria, molto elegante E' un libro di aforismi, io ne ho già pubblicati diversi Il pensiero breve è un po' una delle mie manie, delle mie passioni Ecco, perché? Da dove nasce questa tua passione? Ma nasce un po' come antidoto alla scrittura giornalistica Perché si parla di cronaca, di tante cose, di realtà Ecco, la realtà, la letteratura ci permette di filtrarla E di inventarcela come preferiamo E di interrogarla magari da punti di vista diversi Di questi tempi così complicati diventa anche un modo magari Per uscire proprio dalle difficoltà? Per uscire, per guardarle dall'esterno Per rientrarci magari con una speranza diversa Questo titolo un po' strano come Demoli della speranza Dà l'idea appunto di questa presenza un po' angelica Come il demone che aveva una volta anche il buon Socrate Che si faceva guidare da questo spiritello Che teneva i contatti tra la terra e il cielo Ecco, io senza essere sulle spalle di questi giganti Come Socrate, come Platone, come tanti altri Mi pongo e mi domando se anche io, anche noi Non possiamo avere una speranza di futuro Che è sempre più urgente in questi tempi Direi proprio di sì Ma quali sono i temi che sono racchiusi in questa popera? Io ho dei punti un po' fissi, un po' dei chiodi Sono sicuramente il tema della corporità, degli abiti Il tema della fine vita, della morte, della contemplazione, del silenzio L'ho fatto sia attraverso pagine di poesia Ma anche attraverso l'aforisma Che è un genere letterario particolare Che tra l'altro ha avuto anche, soprattutto in Italia Dei autori di grande rilievo Non solo in ambito europeo, ma proprio anche in ambito italiano Basti pensare ai comaschi, Carlo Dossi, Ugo Bernasconi Insomma, ce ne sono tanti anche in ambito lombardo Anche qui, proprio nel territorio Mi pongo anche io sulle spalle di questi giganti In questo caso E cerco di portare avanti questa tradizione Magari in maniera un po' diversa Non è che sono solo aforismi Non sono solo delle piccole battute Dei calamburi, dei giochi di parole Sono anche un tentativo di scrivere in pochissimo spazio Qualcosa che è un pensiero Che magari potrebbe occuparci intere giornate Sono di fatto però i temi che mi hai citato Dei temi enormi Universali Quindi racchiuderli in poche parole Sembra un'impresa Ed è quello anche il motivo per cui I libidi aforismi sono rari E sono destinati a uscire con grande cadenza di tempo Io questo l'ho fatto in 5-6 anni Il precedente l'ho fatto nel 2014 Quindi se dobbiamo rispettare questa tempistica Il prossimo è già iniziato Ma sarà sicuramente tra qualche anno Perché bisogna farli sedimentare Bisogna costruire tutto un sistema All'interno del quale questi testi possono essere misurati Possono galleggiare un po' per conto loro Io ho un po' l'idea non tanto romantica dell'autore Come parte di una grande fiume Che è il linguaggio La letteratura è il linguaggio Che muta nel corso del tempo Mentre c'è ancora l'idea Che lo scrittore, l'artista Sia qualcosa appunto di romantico Che ha questa scintilla di creazione improvvisa Che poi butta giù sulla carta delle idee Certo succede a tutti Buttare giù delle idee Appuntarsi sul telefonino Magari qualche pensiero Qualche frase Anche di altri C'è tutto il lavoro successivo da fare Cioè tutta l'art scombinatoria Tutte le domande che poi questi testi Ci pongono nella nostra vita quotidiana Hai un'idea quindi molto personale della letteratura Di come poi questa viene sviscerata e vissuta Sì, sì E questo è l'elemento Diciamo salviamo del romanticismo Questo elemento Che sicuramente poi la lingua Di cui tutti noi facciamo parte Anche se non ce ne rendiamo conto Ecco È fatta di tanti contributi Che noi portiamo ogni giorno L'importante è essere consapevoli Quindi la lingua è qualcosa Che si evolve continuamente Anche grazie al nostro contributo Magari creativo come le tante parole Che tutti i giorni utilizziamo Ma che cosa ti dà poi ispirazione Al di là dei grandi temi Che abbiamo visto sono enormi Però dici Magari poi uno si annota qualche cosa Non so se capita anche a te Ma che cosa suscita in te Di solito mi suscita Magari nel sogno Trovi qualche elemento Di decifrazione di un sogno Allora poi la mattina lo devi appuntare Altrimenti scappa Oppure ci sono delle cose Che lette magari a distanza di tempo Si rivelano appunto Cariche di significati Che prima avevi solo intuito Faccio un esempio Ne ho scritto uno Che sicuramente non potevo prefigurare Quello che purtroppo sta succedendo Non serbo rancore Punto russo E' chiaro che vuol dire Io non serbo rancore Mi metto a russare Ma in realtà potrebbe voler dire Anche se lo usiamo come aggettivo Un rancore non serbo Sappiamo tutto quello che è successo Tutta la storia che ci sta Ma russo Cosa vuol dire Che sono stato un profeta inascoltato Quando hai scritto questa cosa? E questo penso Sicuramente in tempi non sospetti E quindi ora invece rivedere Ti stupisce? Mi stupisce Mi fa pensare Ma non è la prima volta Ho scritto anche delle poesie In cui anni prima che nascesse mia figlia Già prefiguravo Il fatto di avere questo destino di fronte a me Certo E' molto più diciamo Semplice, augurabile Quindi è anche abbastanza normale E' un po' l'effetto déjà vu Questo che cosa ti fa pensare? Che tu abbia una spiccata vena creativa La scrittura creativa Tu sia un visionario Tu possa prevedere chi lo sa Come ti inquadri visto questo? No, è che la letteratura In effetti La scrittura è questo grande fiume Che tutti ci compagna Cioè attraversa E dove dentro Dentro il quale tutti nuotiamo A volte ce ne rendiamo conto Altre volte no E per cui ci sentiamo in consonanza Magari con frasi di altri Ad esempio Tanti alighieri Piuttosto che Carl Krauss O altri grandi autori Come Carl Krauss Di aforismi In Italia ci sono stati diversi E altre volte invece Siamo distratti Perché consultiamo troppo Magari social Stiamo un po' troppo distratti Ecco, cosa pensa uno come te Dei social? Io li uso raramente Con grano salis Sono strumenti anche di lavoro Naturalmente Ma sono anche strumenti pericolosi Come tutte le tecnologie Andrebbero utilizzati Con un po' più di Distanza Di stacco Di pertinenza Vedi che il gioco delle parole Ci porta sempre a trovare L'aggettivo e la parola giusta Senti, ti prendo un po' in contropiede Perché non te l'ho anticipato Prima di questa nostra chiacchierata Ma al di là della pillola Che già ci hai regalato C'è magari qualche altro passo Che vuoi regalare agli amici a casa? Sì, questo non è un libro Da leggere dall'inizio alla fine Non è stato scritto così Anche se c'è una certa cronologia Ho rispettato un po' Alcuni criteri cronologici Per cui quelli che sono arrivati per primi Sono all'inizio E gli ultimi sono proprio In fondo Anche se l'ultimissimo In realtà è uno dei più antichi Che suona così Forse l'altra guancia L'unica rimasta Nel senso che c'è un elemento Diciamo così Un po' anche macabro Ogni tanto succede Perché la vita è fatta Anche di queste cose Però ci sono anche elementi In qualche modo Come dire Luminosi Ecco Ad esempio Aspetta che ne cerchiamo uno Un po' Un po' Qualche cosa magari Che sia adatto anche a questo momento Non so se ti chiedo troppo Però adatto a questo momento Può volere dire tante cose Esatto Ce n'è uno che Alcune volte parlo proprio in prima persona Ce n'è uno che fa così È un sentimentale Parla veloce per farsi capire Perché in effetti Quando uno è Pre in pre dalle passioni Poi certe volte Proprio si lascia andare E certo Quindi questo è molto altro Racchiuso in questo tuo libro Ricordiamo il titolo I demoni della speranza Senti Io so che tu hai portato anche Un piccolo regalo Per gli amici a casa Con il quale vogliamo chiudere Di che cosa si tratta? È una poesia Del mio precedente libro Che è Nero e Ruidice Letta da Stefano Noni Che è un grandissimo poeta Comarco Oltre che attore E lo ringrazio Per questa sua Interpretazione Bene Allora con questo Io saluto e ringrazio Lorenzo Morandotti Che naturalmente Continuerò ad avere qui Con molto piacere Quando vorrai Grazie Grazie E chiudiamo Proprio con questo Vai regia Barcarola Dolce Penelo Petesse la tela Di quell'ombrello In cui non pioverà Settembre è il mese Dei proverbi Primo fungo bianco Sul greto nuziale Rocce Animali Nomi E prima di morire Voli pazzi di mosche Mille ragni Si aggrappano Agli armadi Dove piove Alla maglina Prolungo in te l'estate Anche se perdo i frutti